Il bullismo è una forma di comportamento sociale violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che compie l'atto come bersagli facili e o incapaci di difendersi. Con questa definizione si apre il protocollo d'intesa per un percorso di supporto e rielaborazione dell'esperienza di bullismo firmato a Palazzo Civico dalla Città Metropolitana, dalla Città di Torino, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dall'ASL Città di Torino, dall'Ordine degli Psicologi, dall'Università, dal Ministero dell'Istruzione, dall'Associazione di Psicologi e MD. Le azioni previste dal progetto sono rivolte al sostegno alle parti, in primis alla vittima, ma anche all'autore, in una nuova visione che vede autori e vittime entrambi caratterizzati da fragilità e convissuti traumatici. La Città Metropolitana aderisce al protocollo d'intesa mettendo a disposizione il proprio Centro Servizi Didattici per una serie di attività, servizi e opportunità per docenti e allievi di arricchimento didattico, metodologico e disciplinare. Il Centro Studi Informatica Giuridica per la Città Metropolitana Cesedi ha già formato centinaia di insegnanti nell'ambito di quattro anni di corsi di formazione, soprattutto rivolto al contrasto del cyberbullismo e nell'educazione alle competenze digitali. Sicuramente ricevere eventualmente le segnalazioni dalle autorità giudiziarie, dai vigili di prossimità, dalla polizia postale, dai tribunali dei minori e quindi prendere in carico, abbiamo già come neuropsichiatria infantile, abbiamo già in carico sul territorio, nelle due aziende, due situazioni, già grazie all'attività di questo protocollo.